Partecipiamo, partecipate e votate alla call nell'ambito del progetto Azioni Urbane Innovative. Votate per l'economia circolare entro il 23 di questo mese, di febbraio. Votate in tanti perché abbiamo bisogno di risolvere il problema dei rifiuti e soprattutto per l'economia circolare in modo che i nostri rifiuti diventino una ricchezza attraverso le fabbriche del riciclo, i centri per il riuso e la valorizzazione dei materiali.